Al centro delle discussioni politiche c'è sempre lei, l'imposta municipale propria, ovvero l'IMU. Sembra proprio che la proposta dell'abolizione della tassa stia dividendo le forze politiche. Rilevante, ma non degno della considerazione esclusiva e quasi morbosa del dibattito politico attuale, afferma l'ex premier Mario Monti nella conferenza Oxe. Un'affermazione che non è andata bene all'onorevole Renato Brunetta, che risponde per l'erima al professore. Ossessione morbosa, l'introduzione di questa odiosa tassa da parte del governo Monti ha depresso la nostra economia. Negli accordi per far nascere questo governo c'era esattamente l'eliminazione dell'IMU sulla prima casa e sui terreni agricoli e la restituzione di quella pagata nel 2012. E se non ci fosse stato questo accordo, il governo non sarebbe nato. Non è l'unico punto, perché c'era anche l'eliminazione dell'IVA, dell'aumento IVA di luglio, le politiche per i giovani, la riforma di Equitalia, la riforma della giustizia, la riforma fiscale, la riforma costituzionale. Tutti punti che fanno parte integrante del programma di governo del Presidente Letta. Non si può il giorno dopo la fiducia rimettere in discussione il punto fondante, che è quello dell'eliminazione fin dal 2013, quindi fin da giugno, dalla rata di giugno dell'IMU, e la sua restituzione per quanto riguarda quella pagata nel 2012. Ci si chiede, e le coperture? Le coperture, noi le abbiamo indicate ovviamente nei nostri disegni di legge, e le ripeto, per quanto riguarda la cancellazione, le coperture vengono da giochi, tabacchi, alcolici, vale a dire dall'aumento delle accise su queste fonti di reddito. Per quanto riguarda la restituzione, l'accordo con la Svizzera, anticipato dalla Cassa Depositi e Prestiti. Se però il governo ha coperture migliori, lo dica. Noi abbiamo indicato queste e che sono state testate, valutate e validate anche a livello internazionale. Se il governo ne ha delle migliori prontissime a valutarle, dico solo che i patti non si mettono in discussione. Ripeto, se c'è la cancellazione del LIMU dal 2013 e la sua restituzione, e la restituzione di quella pagata nel 2012, c'è il governo Letta. Se non c'è questo, non c'è il governo Letta. Non è vero neanche questo. Ha parlato di stop al pagamento della rata di giugno e riforma complessiva della tassazione sugli immobili. E questo va bene. Noi diciamo che negli accordi all'interno della riforma della tassazione sugli immobili c'è l'esenzione totale della IMU, prima casa e terreni agricoli, e la restituzione di quella pagata nel 2012. Questi sono gli accordi di governo. Lo ripeto, l'ha ripetuto Berlusconi fino alla nausea, se c'è il mantenimento di questo accordo c'è il governo Letta. Se non c'è il mantenimento di questo accordo non c'è più il governo Letta. O meglio, non c'è più la nostra partecipazione alla maggioranza. Letta. 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 Letta.